In Campania ora dove si profilano misure restrittive negli spostamenti tra le diverse province. In diretta da Napoli l'inviato Giuseppe Lavenia. Sarà un'autocertificazione, un modulo come quello usato durante il lockdown a comprovare i motivi importanti per cui ci si sposterà di notte tra le 23 e le 5 del mattino a partire da venerdì. L'ordinanza della regione Campania entrerà in vigore dunque nelle prossime ore c'è questo divieto, non si può lasciare il territorio dove si vive per andare in altre province nelle ore notturne. Ci saranno dei controlli, saranno impiegati sulle principali strade di collegamento interprovinciali, non soltanto le forze dell'ordine locali ma anche dei militari. Il Ministero dell'Interno ha annunciato che in queste ore stanno arrivando a Napoli e in tutta la Campania un centinaio di militari che sarà utilizzato proprio per questo scopo. L'ordinanza che entrerà in vigore dunque a partire da venerdì è sul modello Lombardo, quindi riguarda la chiusura notturna di tutte le attività tranne quelle ritenute essenziali per la collettività. E da Napoli è tutto. E i Liguri a misure per contenere gli assembramenti serali, allora subito in diretto. E da Napoli è tutto.